Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranti, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi elisi. E sarete già morti! Fratelli! Avvio segnale, scatenate l'inferno. Grazie. 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 Grazie.